Good morning Genova e grazie per questo spazio per ricordare che 40 anni fa, il 20 di maggio, nasceva la nostra associazione, nasceva Lega Ambiente. Nata in quegli anni per contrastare lo sviluppo delle centrali nucleari, ricordiamo i due referendum vinti, grazie anche al lavoro svolto dai tanti volontari di Lega Ambiente nel 1987 e nel 2011. La nostra associazione sin da allora ha compreso l'importanza di coinvolgere i cittadini in modo attivo, aprendo i propri circoli sul territorio e sviluppando campagne nazionali di sensibilizzazione. È del 1986 infatti la prima edizione di Goletta Verde a sostegno della salute dei cittadini e del nostro male per la promozione delle aree marine protette, per una depurazione delle acque efficiente, qualità delle acque che continuiamo a monitorare ogni anno con i nostri tecnici biologi. È del 1988 il treno verde che facendo tappa nelle maggiori stazioni italiane informa i cittadini attraverso le carrozze allestite con mostre interattive sull'inquinamento atmosferico, sulla mobilità sostenibile, i cambiamenti climatici e gli stili di vita sostenibile coinvolgono anche le scuole. Lega Ambiente è un'associazione che quindi pratica un ambientalismo scientifico e sociale ed è del 1994 il neologismo eco-mafia, coniato per far comprendere le fortissime relazioni tra criminalità organizzata e sfruttamento dell'ambiente, arrivando al 2015 quando finalmente otteniamo la legge sugli ecoreati che entrano così nel codice penale. Sempre negli anni 90 abbiamo importato la campagna internazionale Puliamo il mondo che coinvolge ogni anno decine di migliaia di persone in attività di pulizia e valorizzazione dei parchi e delle città. Oggi al centro dell'attenzione la questione dell'emergenza climatica che nella nostra regione ha portato ad un grave dissesto idrogeologico dovuto anche all'eccessiva cementificazione del territorio, ad un eccessivo consumo di suolo del territorio. Questa sera insomma siamo davvero felici e racconteremo i nostri 40 anni alle ore 21 e 30 con il Ministro dell'Ambiente Costa, con Don Luigi Ciotti, con Katia Bastioli, Cristina Fossi, Piero Pelù e Filippo Solibello in diretta sulle pagine Facebook e sui siti di Legambiente e della Nuova Ecologia. Seguiteci per festeggiare e brindare insieme!